a Beh, a dirice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarvi, ho capito che cerca di fermi la cortola, non mi tocci. Bisogna che tu impari a relazionarti con gli altri ospiti. Chi è? Non è nuova, non è nuova, non è nuova! Tentatevi di succedere in detenzione, eh? Te un po' di cazzi tu hai mai! Mi scusi a lei, la dottoressa? Beh, a te dice, porca è! Sto socializzando qui! No, si sta inficciando, avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. e praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Venite! 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 Lo aspettiamo stasera per piacere, una bravata. No, la macchina, no! La macchina! È Tchaikovsky, eh? E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. Vogliamo stare bene. Grazie!